Carica, 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 carica Ne stanno arrivando altri, si Almeno questi insultano un po' di meno Cioè i contadini facevano cabron, figlio deputa Questi almeno dicono sempre la stessa cosa Calcio Ammazza resistenti, eh Ashley, ma vuoi fare qualcosa? Tipo prendere la sedia e sbattergliela in testa? No, eh Che è proprio un cazzo Sei utile quanto un culo senza il buco Smotonna, sentite che versi che fanno Sì, come no, come no Carica, carica, carica Guardate Ashley che si abbassa mentre io sparo bella ma che cazzo stai a mare vuoi andare? more, more lol uuu erba rossa merda questo si che è interessante ok beh fatto di medicina non stiamo messi proprio tanto 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 male prendiamo la spada d'oro e incastoniamo la spada di platino in questa fessura possiamo anche prendere la pistola ora perché credo che ci sia soltanto un finocchio eh infatti si aiesta pure io sto bene andiamo di coltello di brutto come potete vedere questo è no no che culo ragazzi che culo questo è molto più resistente dei suoi fratelli si fa il figo lui guardatelo guardatelo pure è certo è certo pure il verme ti può andare a cagare no eh che ti possono ammazzare non dovinate cosa va lì ebbe certo molto semplice come cosa specialmente perché i punti di osservazione quelli importanti vedete per esempio questa questa picca questa lancia chiamatelo un cazzo volete non è evidenziata invece vi avvicinate a che ne so a quelle spade brillavano si è utile perché se no magari non lo vedi neanche però sinceramente è troppo facile così quindi una volta ti facciamo usare il cervello a parte un video si cosa se ti tocchi lì ho capito cosa hai per noi peccato ti è caduto ah il farmaco non è una buona idea Louise falla venire con te fidati ma perché a me ma stronzo portati Ashley questa non la dà non fa niente non serve a niente eccola mi fai un lavoretto ecco si ragazzi 5 minuti e torno eh ma quanto finisce no sto scherzando vediamo se c'è qualcosa qui niente però dobbiamo dobbiamo andare di qua se non sbaglio eh si eppure so curioso di vedere cosa c'è là viva l'esplorazione viva l'esplorazione che cazzo eh vieni però oh minchia hanno fatto il giro ma porca la miseria no ho sparato Ashley no no cioè veramente sono demoralizzato in una maniera incredibile che sto pensando al suicidio cioè ma che cazzo mi consiste quella cosa lì dietro di me cosa cosa consiste a farmi girare i coglioni ma porca la miseria viva l'esplorazione un cazzo minchia stavolta questo qua lo faccio fuori però quel cazzo che mi scappi di nuovo no sono invitato al party no va bene mi mostro l'invito ve gusta vaffanculo e tu stati buona no qui davanti i coglioni ma c'è la finestra ciao vai apri minchia munizioni la vita chi è che spara what the fuck lord chi è c'è qualcuno no ragazzi veramente adesso impazzisco ah eccolo ecco ti pareva cioè ma avete visto mi è caduto ragazzi di testa mamma mia che dolore capite perché si chiama anti sommossa vai caccia il verme caccia il verme se hai il coraggio vediamo se c'è qualcosa no e qui cosa c'è tipo mi aspetto tesoro qualcosa ecco la vita dai buona però soltanto questa ah eccolo una chiave mi sa ci dovevamo andare per forza di qua e chi vi ha invitato via Ashley via via no 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 sì e vai via Ashley ecco ora togliti davanti i coglioni sì sì matar ma la porta non sanno aprire la porta c'è la maniglia la maniglia niente ok sono andati uh in due secondi avevano riempito la stanza e che è oh orgi a parte chi vi ha invitato c'è si chiede il permesso prima adesso abbiamo la chiave qualcosa mi dice che va inserita nella porta che abbiamo snobbato prima ecco qui la porta è chiusa ovviamente abbiamo la chiave Ashley vuoi vedere la mia chiave mi sa tanto che qui parte un video se non sbaglio e dico se non sbaglio qui c'era un tesoro attaccato qui no vabbè forse è più avanti sì infatti è un po' più avanti what the fuck che è ah sì me lo ricordo il lanetto guardate il lanetto eh beh colpi di scena è un bufo che nome di merda tanto guardate i tizi sono delle locuste che tipo che tipo ah certo che bello si ma lui convinto eh ragazzi convinto eh certo leon troveremo una cura ottimista proprio all'ennesima potenza eh allora chi era il nano il nano era un castellano di questo di questo castello e vedrete più avanti che lui ovviamente è sotto il comando di sed lord sed perché praticamente dà ordini a tutti quanti e c'è sto cazzo di tesoro dove minchia è ah più avanti macchina da scrivere ah eccolo minchia leon bella possiamo incastrarlo nella maschera se non sbaglio a meno che l'abbiamo già utilizzato quel colore quindi non vediamo infatti l'abbiamo già utilizzato vabbè lo terremo per un'altra maschera o magari un altro gioiello sempre da utilizzare vedremo perché venduti così non servono a niente insomma interessante lì manca manca una figura manca una specie di creatura vabbè non capito tra lacrima ok adesso salviamo caspita perché abbiamo fatto veramente tanta strada vediamo un po' che è sta figura una bella decorazione ma manca qualcosa eh sì certo manca manca tanto allora vediamo questa porta naturalmente la mappa ci indica esattamente dove andare infatti dovremo prendere l'altra porta anche perché questa è chiusa vedete ci sono le porte chiuse rosse quindi dobbiamo andare di qua vieni vieni Ashley c'è puzza di stronzi eh già lì mi sembra una cella bruttissima tipo un carcere munizioni su una sedia chi è che non lascia munizioni su una sedia queste cose mi fanno tanto tanto ridere vabbè molto intelligente nascondere lì un tesoro il primo coglione che passa lo sgama eh io insomma come si fa a prendere quella vabbè dopo spariamo qui fa a prendere lì